Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Tentativo di furto ai danni della ditta Mancini di Fano la scorsa notte Strada dissestata a Ronco-Sambaccio, i residenti chiedono da tempo un intervento Sanità provinciale, le sigle sindacali unite chiedono condivisione e trasparenza Appello dei proprietari per ritrovare un Border Collie scappato di casa Buonasera, ben ritrovati, apriamo questa edizione di Occhio alla Notizia Partendo dalla cronaca, con un tentativo di furto ieri sera ai danni, poco prima di mezzanotte Dello showroom della ditta Mancini in via della Pineta a Fano, in zona ex Zuccherificio Scattato all'allarme, è intervenuta una pattuglia della vigilanza privata Ma dei malviventi, nessuna traccia Effettuato un controllo dell'area, non sono stati trovati nemmeno i segni di scasso Dopo circa 20 minuti, l'operatore della centrale ha notato delle telecamere accese e tre persone A volto coperto, che stavano scavalcando una rete Poi uno di loro è salito su una scala per entrare dalla finestra A quel punto la vigilanza privata è tornata sul posto, insieme alla polizia e ai carabinieri E le forze dell'ordine hanno ritrovato la scala e una mazza vicino alla rete di recensione tagliata Ma i malintenzionati, anche in questo caso, erano già scappati a mani vuote Passando probabilmente per i campi retrostanti E dalla zona dell'ex Zuccherificio spostiamoci invece a Roncosambaccio Dove un abitante e anche un operatore gastronomico della zona Ha richiamato la nostra attenzione per una strada estremamente dissestata Guardiamo Un vero percorso ad ostacoli con il rischio che mettendo male le ruote nella stretta carreggiata Si possa finire nella scarpata sottostante Siamo sulla strada che da Roccosambaccio porta Novilara e Candelara Che versa da tempo in pessime condizioni Vuoi per alcune frane che si sono verificate E per la scarsa, se non totalmente assente, manutenzione Ma la vera sciagura di questa apparentemente, e sottolineiamo apparentemente, strada secondaria Si verifica quando piove Qui non si riesce più a camminare, ci spiega il titolare di un agriturismo proprio sulla strada Lui, di situazioni critiche, ne ha viste molte e risolte anche diverse Pende troppo, quanto è bagnata C'è la terra Già anni e dietro, due o tre macchine c'è andato di sotto Io con un camion l'ho tirato su io con un trattore Un altro siamo venuti sui con due trattori e li abbiamo fatti da solo Un'altra volta è venuto in carattrezzi Cioè, sono cose che perlomeno darle una sistemata Noi non pretendiamo chissà cosa, però... Il signor Gianni, avendo i mezzi e la buona volontà Non è la prima volta che compra sacchi di agglomerato rapido E tappa lui le buche della strada Per rendere la vita ai suoi clienti e agli abitanti del luogo meno difficoltosa Ma vorrebbe vedere più attenzione da chi ha promesso di metterci mano Io abbiamo fatto presente anche al sindaco già da due anni Da dargli una sistemata Ma qui rimane e chiudono le due buche più grosse Addirittura vengono su con una carriolata di catrame Chiudere quelle piccole, perché quelle grosse non bastano niente L'intervento sulla strada si rende urgente e necessario Anche perché, come vi dicevamo, solo apparentemente questa è una strada secondaria Ma in pratica il traffico, soprattutto nel periodo estivo, si triplica Dice Gianni, perché da Novilara e Candelara Per arrivare a Fosso 6 ore e bypassare il traffico cittadino di Fano Passano tutti da qua Inoltre, altra considerazione che Gianni ci suggerisce Riguarda il traffico pesante Tutte le abitazioni della zona sono servite dal gas GPL E non dal metano di rete Quindi qui passano periodicamente pesanti cisterne di gas Vi immaginate che cosa succederebbe se una di queste si ribaltasse? E cambiamo argomento, passiamo alla sanità Perché una denuncia sul servizio sanitario provinciale Oggi è arrivata dai sindacati, dalle sigle sindacali Che chiedono risposte alla regione E un progetto condiviso e trasparente Sentiamo il servizio di Simona Zonghetti Mancanza di posti letto Liste d'attesa Mobilità passiva E assenza di un progetto sanitario condiviso Queste sono solo alcune delle criticità Messe in evidenza da CGL, CIS e UIL Che chiedono trasparenza e risposte Alla regione, ai direttori di Marche Nord e dell'Azur Sul riassetto dei servizi sanitari Per i sindacati il territorio pesarese è quello che ha subito il taglio più pesante di posti letto Con forti penalizzazioni delle popolazioni dell'entroterra Fra l'altro fanno notare che a tutt'oggi non esiste un progetto post-acuzie Per le cure intermedie per la città di Fano e Pesaro E di case di cura neanche l'ombra Il tutto determina un grave problema nei percorsi di dimissioni In particolare dai reparti di medicina e lungodegenza Con un gran numero di ricoveri impropri nelle residenze protette della costa La situazione che percepiamo è di grande difficoltà In particolare della sanità dell'entroterra Che è stata letteralmente spogliata di servizi importantissimi Parliamo di un qualcosa come 200.000 cittadini e cittadine Totalmente disorientate rispetto alla riforma sanitaria La trasformazione degli ospedali di Polo in ospedali di comunità Al fatto che l'ospedale di Urbino stia scoppiando Al fatto che il sistema dell'emergenza urgenza Quindi delle ambulanze e degli investimenti ci sono stati Quindi un cambio di spasso rispetto agli ultimi 5 anni c'è stato Certo che gli interrogativi in particolare per la città di Fano Evidentemente rispetto a ciò che resterà del nostro ospedale in città E a questo annunciato ingresso del privato Insomma sono domande non di poco conto per il futuro Alle quali il presidente Ceriscioli ad oggi non ha dato risposte Se non evasive Di sanità prosegue Ricci se ne parla solo attraverso annunci Dichiarazioni o comunicati stampa Si avanzano possibili soluzioni come la gestione privatistica Di due ospedali di comunità Cagli e Sasso Corvaro Mentre per Fossombrone continua una lenta agonia Si legge inoltre che il Santa Croce resterà un ospedale Ma allo stesso tempo si ipotizza una clinica privata a Fano Per combattere la mobilità passiva Ma in base a quali criteri corrisponde questa programmazione Chiedono i sindacati Mancano atti, certezze Ed oggi hanno dubbi non solo i cittadini Ma anche i lavoratori stessi e gli amministratori locali Tutti concludono Hanno il sacrosanto diritto di conoscere Quale sarà il futuro dei servizi sanitari Noi ci siamo stancati dei messaggi spot Che vengono dati ora da questo Ora da quell'altro consigliere Talvolta anche dal Presidente della Giunta Quindi vogliamo sapere qual è il progetto generale E vogliamo avere un confronto Possibilmente continuo e chiaro Si gioca il futuro della sanità Della nostra provincia in particolare Che è quella più disagiata Complessivamente al di là dei terremotati Che hanno un altro problema Ma noi non avendo il problema del terremoto Abbiamo problemi soprattutto nell'entroterra E non solo nell'entroterra Bisognerebbe avere le idee chiare Noi chiediamo trasparenza Sempre sul tema della sanità Ne abbiamo parlato più volte Abbiamo seguito anche le loro riunioni Ormai tutti sanno che il patto di piagge È un'unione di sindaci del territorio 13 per la precisione Che hanno una visione diversa Da quello che è la visione invece policentrica E insomma della regione Allora sabato 4 marzo Prende il via a fan una raccolta firme Per una mozione di iniziativa popolare Affinché il sindaco Seri Aderisca al patto di piagge Ad organizzarla Bene Comune Possibile Lega Nord E il Movimento 5 Stelle In corso Marteotti Davanti a Palazzo Gabuccini Ci sarà questa raccolta L'iniziativa si svolgerà tutti sabato Dalle 10.30 alle 12.30 Dalle 17 alle 19 E le domeniche pomeriggio Dalle 17 alle 19 Con la propria sottoscrizione Si aderirà ai principi promossi dal patto E cioè No all'ospedale unico Un tavolo di lavoro tra regione e sindaci Per un nuovo piano sanitario Ed un sistema policentrico Che garantisca a tutti Assistenza ospedaliera per acuti Omogenea sul territorio provinciale Nell'immagine avete visto appunto Un'assise dei sindaci Del patto di piagge Ed ora passiamo a un altro argomento Che ha tenuto calda l'attenzione Di tutti quanti Nei mesi passati La fusione tra Aset Spa Ed Aset Holding Perché i 5 Stelle Vogliono vederci chiaro Proprio a questo riguardo Sentiamo il loro pensiero E le loro dichiarazioni Allora Aset e fusione A che punto siamo? Qual è la visuale in questo momento Di Movimento 5 Stelle? Beh noi Nella delibera di fusione Abbiamo votato no Non tanto perché Siamo contrari Appunto a questo processo Ma perché ci sono Tante criticità Che hanno fatto sì Che questa fusione Sia stata Frettolosa E anche molto pasticciata Ultimamente sono anche Venute fuori Appunto delle diverse Annotazioni su questa Su questa fusione E per quanto riguarda Anche all'annulità Eventuale di alcuni atti Ecco noi Allora abbiamo chiesto Assolutamente Al Presidente della Commissione Garanzie e Controllo Di convocarla Al più presto Con tutti gli attori Diciamo Responsabili di questa fusione Affinché si faccia Chiarezza il più possibile Su molti punti critici Tra cui Ad esempio Il ruolo dei soci All'interno di questa fusione Quale deve essere Perché ricordiamo Che è vero che il Comune Ha il 95% delle elezioni Ma poi ci sono tantissimi Altri comuni Piccoli comuni Una decina Poco più Che hanno comunque Appunto la caratteristica Di essere soci Di questa Di questa Aset Di questa nuova Aset Oltretutto c'è anche Un'altra criticità Su Aset Entrate Cioè praticamente Quella branca Della società Che è Deputata Alla riscossione Dei debiti E delle tariffe Ci sembra Che ci siano poche Diciamo Se vogliamo Assicurazioni Sul fatto Che questa Aset Entrate Stia funzionando Nel modo dovuto Anche per questo Appunto chiediamo Sempre Alla Commissione Garanzia Di attivarsi Al più presto Lo diciamo Perché comunque Questa fusione Diciamo Ha dei piedi Che si poggiano Sull'argilla Ad esempio Facciamo solo due esempi Uno è il fatto Che l'eventuale aumento Appunto Delle entrate Di questa nuova società Si basa L'ha detto l'advisor Quindi chi ha studiato Di questo tema Si basa Sull'eventuale aumento Delle tariffe Per i cittadini Insomma Questo a noi Sicuramente Non ci sta bene Ma bisogna anche molto Puntare l'attenzione Sul fatto che A breve La provincia La regione Decideranno Sul gestore unico Per quanto riguarda Appunto Ad esempio I rifiuti E l'acqua Pubblica Appunto Nella nostra provincia Nella nostra regione C'è un gravissimo rischio Che con questa fusione Al contrario di quanto Se se ne dica Ci sia la possibilità Che Marche Multiservizi Quindi una società privata Entri Nella gestione Di questi beni Preziosissimi Che sono a Fano Fortunatamente Ancora in mano pubblica Ma che rischiano Appunto Di essere privatizzati Quindi Un occhio sempre attento Movimento 5 Stelle Lo sta facendo in continuazione Non solo per questo argomento Ma in particolare Appunto Su questo tema Noi appunto Chiediamo La convocazione ad hoc Di una commissione Di garanzia e controllo E spero che il presidente Del vecchio Accolga il nostro appello Bene Sempre su questo tema Aset Holding Va verso la fusione Con Aset Avendo rispettato La modalità Ai tempi stabiliti Dall'amministrazione comunale Lo dice Teodosio Auspici Presidente di Aset Holding Società pubblica Detenuta quasi per intero Dal comune di Fano Anche gli altri consiglieri D'amministrazione Prosegue il presidente Sono d'accordo con me Nell'assicurare Che ogni passaggio Previsto dal percorso Verso la fusione È stato valutato Con massima attenzione Il nostro operato Prosegue Auspici È sempre stato Ben vigile Nell'interesse Della collettività A nome del CDA Di Aset Holding Poi il presidente Aggiunge Che le recenti critiche E perplessità Contengono numerose Inesattezze Ed ora cambiamo Decisamente argomento Parliamo di animali E di un cane In particolare Si chiama Rocky Un cucciolo di Border Collie Che è scomparso Da fine gennaio Dalla sua famiglia A Pesaro E nonostante I mesi di ricerche E ancora Nessun ritrovamento La famiglia I proprietari Non si rassegnano E lanciano un appello Sentiamo Simona Zonghetti Lui è Rocky Un Border Collie Di sei mesi Fuggito a Pesaro Il 27 gennaio scorso Ed è il cucciolo Ad oggi Non c'è più Nessuna traccia La famiglia Ha benvenuti E ha tentato Di tutto Poi di ritrovarlo Ma non si vuole Arrendere Dopo articoli Di giornale Ricerche Volantini affissi In giro per la cittura Ora il padrone Ha deciso Di raccontarci La sua storia E lanciare Un ulteriore appello Niente Stavamo facendo Addestramento Lo stavo abituando A quello che è Il traffico cittadino I rumori così E per un attimo Una mia distrazione Purtroppo Mi è scivolato Il guinzaglio Essendo poi Un cane molto Timido Pauroso Schivo Con tutti Così Ha avuto paura Anche del rumore Che ha fatto Il contenitore Dei sacchettini Che aveva appunto Attaccato al guinzaglio Mi è partito Mi è andato in mezzo alla strada In una frazione di secondo Non sono riuscito a fermarlo Poi purtroppo è stato investito E da lì È scappato E Gli ho corso tanto Dietro L'ho perso di vista E purtroppo È andato a finire così Il fatto è successo In via Cialdini Nei pressi di Rocca Costanza In questo mese Sono arrivate anche Tante segnalazioni Di avvistamenti Ma nessuna di queste È andata a buon fine Intanto In poco tempo La storia del cucciolo Ha fatto il giro del web Sono nati gruppi Su Whatsapp E molte persone Hanno deciso Di aiutare la famiglia Unendosi alle ricerche Però la speranza È ancora viva La speranza Sì Noi non molliamo Guarda Mi commuovo Anche adesso Sono circondato Da ragazze fantastiche Hanno creato Un gruppo su Whatsapp Ci aiutano Nei pattugliamenti Nel volantinaggio Escono di sera Escono la mattina presto E vanno Nelle case abbandonate Io non ho parole Per ringraziare queste persone Ma veramente Veramente Grazie Di cuore Perché anche Con il loro aiuto Io mi sento Meno solo O meno Dolore Pur di ritrovare Il loro cucciolo La famiglia Benvenuti Ha deciso Di offrire una ricompensa Di 500 euro A chi dovesse Riportare Rocky A casa Per favore Ci sono due bambini Che lo stanno aspettando Se Se lo avete Trovato Sapete dov'è Per favore Fate in modo Che ritorni Nella sua famiglia Grazie E questo è quello Che scaturisce Dall'affetto Con un amico A quattro zampe E speriamo Che questa ricerca E questo appello Trovi Il giusto Insomma La giusta fine E insomma E il cucciolo Torni Tra le braccia Dei suoi padroncini Ed ora Quello che le donne Dicono È il titolo Dell'incontro Organizzato Dall'assessorato Ai servizi sociali In collaborazione Con la presidenza Del consiglio Del comune Di Mondolfo Che si svolgerà Venerdì 3 marzo Alle ore 21 Nella sala Convegni Della Croce Rossa Di Marotta Sarà l'occasione Per presentare Il nuovo libro Della scrittrice Eleonora Giovannini Che sarà presente All'incontro Intitolato Le donne E il dolore Porteranno La loro testimonianza Anche Natalia Baiocchi Primo dirigente Della Polizia Di Stato Francesca Ceccarelli Presidente L'associazione Percorso Donna Valentina Corini E Giorgia Ortolani Operatrice Del centro Antiviolenza Parla con noi E lunedì prossimo Si celebra In tutta Europa La giornata Della logopedia Quest'anno L'attenzione È rivolta A coloro Che hanno Difficoltà Nel deglutire Vediamo il servizio Non sempre Deglutire è facile Con questo slogan I logopedisti Celebrano il 6 marzo La loro giornata europea Con un'attenzione Rivolta Alla disfagia Quest'anno Come tutti gli anni C'è un anno Un argomento diverso Che viene trattato Quest'anno Ci occupiamo Della disfagia Cioè Della difficoltà A deglutire Deglutire sostanze Solide e liquide Che potrebbe rendere Problematica O addirittura Impossibile Un'alimentazione Autonoma E sicura Pensate che In media Un uomo Deglutisce Circa 800 Mille volte Al giorno Per bere Mangiare E ingoiare La saliva Inoltre La disfagia Può interessare Tutte le fasce Di età E se non è Correttamente gestita Può esporre Il paziente A grave rischi Malnutrizione Disidratazione Aspirazione Di cibo Nelle vie aeree Con conseguenti Disturbi Polmonari Anche gravi Che possono portare Alla morte Ad esempio Con il bambino È spesso Associata A paralisi Cerebrali Infantili A malattie Genetiche A malattie Neurodegenerative Come la Malattia Di Crab O mentre Per gli adulti A malattie Neurologiche Quali L'ictus Che posso dire La SLA Il Parkinson Le demenze Oppure Anche A malattie Tumorali Come ogni anno La federazione Logopedisti Italiani Marche È molto attiva Sia sul piano Regionale Che su quello Nazionale Infatti Organizza eventi Per promuovere E sollecitare L'attenzione Delle persone Sul tema Dando un supporto Informativo E distribuendo Opuscoli E materiale Scientifico Come tutti gli anni Lasciamo a disposizione Dei numeri Di telefono Dove Sia La giornata Del 6 marzo Che la giornata Proprio Della logopedia Di giornata europea Sia però Tutto l'anno Ci sono dei numeri Di telefono E delle mail A cui si può Mandare un quesito Per avere delle risposte Sia per quanto riguarda La disfagia Ma anche per altre problematiche Legate alla logopedia E inizia domani Alle 17.30 La Mediateca Montanari Di Fano Il ciclo di incontri Raccontare La grande guerra Scrittori Critici letterali Docenti universitari Presenteranno E discuteranno Le pagine Più significative Relative Al primo conflitto Mondiale Nel primo appuntamento Corrado Donati Tratterà La guerra narrata Ed il purgatorio Di Antonio Baldini Bene Ed ora Vi do una informativa Riguardo al Dopo Tg Stasera Approfondimento Di Orizzonte Fano Marco Ferri Qui negli studi Intervista L'assessore allo sport Caterina Del Bianco E poi Prima di salutarci Vi voglio ricordare Che per noi Le vostre segnalazioni Sono sempre molto importanti Avete un numero A disposizione 338 49 68 250 Memorizzatelo Nel vostro telefonino E mandateci foto Segnalazioni E ogni Qualsiasi cosa Voi riteniate utile Che arrivi a noi E vedremo Naturalmente Di darti seguito Grazie per essere stati In nostra compagnia Domani mattina L'informazione Inizia alle 7.30 Con occhio ai giornali Buona serata a tutti voi Grazie a tutti